La Cerrana è nata per noi giovani, in senso che prendiamo molti giovani della stessa Cerra. La Cerra ha una storia del pallone e noi la vogliamo costruire. Costruire significa crescere, crescere con i giovani purtroppo ha delle pecche. Però comunque stanno dando molto, ma tanto, a questa città. In testa di oggi 3-3 contro il Casori, come me lo commenti? Lo commentiamo, semmai dire le feste, mettere le feste in mezzo, significa tanto. Giocare una partita amichevola con questa struttura e vedere i ragazzi che giocano è un piacere. Gli obiettivi del 2015 della Toccia è tanti? Ma gli obiettivi sono tanti, tantissimi. Spero tanto stare sempre lassù e dire sempre la nostra, in tutto e per tutto. Potendo contare sull'apporto una grande tifoseria, la domenica mattina le tribune sono sempre piene. Sono sempre piene e questo ci può dare ancora una forza in più rispetto agli altri, perché vedere 700 persone sugli sparti la domenica a noi ci sta. è una seconda pelle. Per me il rosso significa una seconda pelle, è una maglia intima che noi siamo. E questa è la virtù nostra. Grazie, un boccolo per la vostra giornata. Crepe anche a lei.